Prepararsi alla partenza d'emergenza. Pronti! Guantini! Il mio equipaggio deve avermi creduto molto. Ma io sono vivo. Sorpresa! Comunque vado a finire. Dite al mondo e alla mia famiglia che non ho mai smesso di lottare per tornare a casa. Sopravvissuto The Martian al cinema. Ciao a tutti, IFC Films ha annunciato che l'uscita dell'atteso remake di Cabin Fever sarà nel 2016. Travis Zee dirigerà la pellicola dallo script originale di Eli Roth. Script che parla di un gruppo di adolescenti che va in una capanna per passare un divertente, molto divertente weekend nei boschi. Sennonché il weekend prenderà una piega molto lontana dall'essere divertente. Protagonisti del remake saranno Gage Golightly, Dustin Ingram, Samuel Davis, Matthew D'Addario e Nadine Crocker. Allora che ne dite di quest'altro remake? Lo andrete a vedere? Fateci sapere nei commenti qui sotto. E se non l'avete ancora fatto c'è sempre la nostra app da scaricare. Al prossimo video! Al prossimo video!